Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Puntata di affari tuoi densa di polemiche e quella andata in onda ieri, 20 dicembre, su Rai 1. Anche Amadeus, suo malgrado, è finito nella bufera. A cercare la fortuna nei pacchi misteriosi è stata ieri una coppia del Friuli Venezia Giulia. Andrea e Sofia, entrambi giovanissimi di Pordenone, ci metteranno molto a digerire la delusione. Delusione che è stata palpabile anche tra il vasto pubblico di Amadeus che si è riversato in rete. Per fare capire quanto affari tuoi sia diventato ormai un riferimento per gli italiani, basta guardare i dati Auditel. Il programma condotto da Amadeus si è confermato, anche ieri, come il fenomeno TV della stagione. La puntata ha incollato allo schermo 4.906.000 telespettatori, facendo registrare il 23,2% di share e battendo il primo tempo della Coppa Italia Interbologna. Che invece ha raccolto 4.195.000 telespettatori, col 19,8% di share. Un risultato non da tutti. Peccato che il pubblico si aspettasse altro per Andrea e Sofia. Pubblico che se l'è presa con il dottore, la figura misteriosa che tiene le fila del programma tra offerte, cambi e tranelli. Tranello come in questo caso. Arrivata all'ultimo step con due soli pacchi la coppia ha accettato, all'ultimo minuto, l'offerta del dottore di fare cambio pacco. Peccato che questa scelta sia ritorta contro di loro. Andrea e Sofia, infatti, così facendo, hanno lasciato andare ben 5.000 euro, riuscendo a portare a casa solo 500 euro. La proposta del dottore ha fatto discutere molto sui social. Un utente, per esempio, ha scritto che cattivo il dottore, gli hai tolto il pane dalla bocca, poveri ragazzi. Un altro invece, a voler essere eleganti questa sera Pasquale Romano alias il dottore si è dimostrato un emerito stronzo. E ancora, e come sempre il dottore una MM asterisco ha solo per non fa sborsare soldi alla RAI. Insomma, bene per gli ascolti, male per altri versi.